Grazie mille, veramente ringrazio la direttrice del Dipartimento, la professoressa Berta Martini del Dipartimento di Istum per avermi coinvolto in questa presentazione importantissima, ovviamente portando il contributo di un'esperienza differente che noi stiamo facendo e stiamo portando avanti all'interno del settore biblioteche, ma che sicuramente potrà sviluppare tante occasioni di interazione fruttuosa tra le due esperienze, tra le due realtà e quindi la ringrazio proprio per questa opportunità. Il progetto Sanzio Digital Heritage nasce nel 2021 grazie a un finanziamento ministeriale e si propone, appunto ha uno scopo differente da quello che vedremo oggi, ma si propone proprio la valorizzazione tramite la divulgazione open access di quello che è il patrimonio culturale in primis dell'Università di Urbino e poi però anche di altri enti del territorio, ma non soltanto. Abbiamo proprio voluto fin nella sua progettazione cercare di pensare a una struttura aperta che potesse coinvolgere delle realtà che da sole avrebbero avuto difficoltà a portare avanti un discorso di digitalizzazione, ma soprattutto di divulgazione dei processi di digitalizzazione. E quindi abbiamo iniziato la collaborazione, voi vedete alcuni degli enti che sono coinvolti, alcuni sono legati all'università ovviamente, ma non solo. Per esempio la società di studi francescani di Assisi e tante altre in realtà sono in contatto con noi per iniziare delle nuove collaborazioni. Perché ovviamente il processo di digitalizzazione e di divulgazione e di mantenimento delle strutture per divulgare è un processo faticoso, laborioso, costoso, che non è accessibile a chiunque, soprattutto non è accessibile alle piccole realtà. Il progetto Sanzio si compone di due realtà per l'appunto, il laboratorio che si trova all'ultimo piano della biblioteca di San Girolamo e la teca digitale che ovviamente si può consultare online gratuitamente. Il laboratorio è composto di quattro sezioni, la sezione digital imaging è quella che si occupa della digitalizzazione dei documenti, è dotata principalmente di tre scanner a due, a uno e a zero ed è gli strumenti per cercare di conservare, digitalizzare i documenti anche fragili e comunque che hanno bisogno di particolari accortezze senza incidere sulla loro conservazione. Il laboratorio, il settore per l'audio e per il video è un settore che è dotato di strumenti non solo digitali ma anche analogici e in questo ambito noi stiamo lavorando molto perché questi supporti sono particolarmente fragili e sono anche particolarmente difficili da mantenere nel tempo. Le audiocassette degli anni 80-90 sono fragilissime. Abbiamo trovato da un lato degli archivi assolutamente organizzati, parlo per esempio dell'archivio del Centro Internazionale di Semiotica che è un archivio interessantissimo che stiamo digitalizzando ma è un archivio enorme. Abbiamo poi trovato in questo settore anche delle piccole perle interessanti. Io mi ricordo quando facevamo il trasferimento a San Girolamo da Palazzo Veterani in una cassa tra tutto il materiale che si doveva cercare di capire cosa tenere e non tenere, ho trovato le bobine del primo convegno di studi internazionali su Giuseppe Ungaretti voluto a Urbino da Carlo Bo nel 1979 di cui sì abbiamo gli atti però adesso abbiamo anche restaurato digitalmente tutte le relazioni che si sono ottenute in questo convegno. Chiunque di voi fa studi sa benissimo che quello che si dice a un convegno non è poi esattamente quello che si riporta nella parte scritta degli atti del convegno. Quindi sono delle testimonianze preziosissime che noi cerchiamo di valorizzare e di condividere. E devo dire che la sezione audio e video ha di scontra veramente un grande successo di visualizzazioni. Ecco qui c'è l'esempio appunto di alcuni degli audio del Centro Internazionale di Semiotica e sotto sono invece i filmati video del archivio del premio Montefeltro di Frontino che è ricchissimo di video delle prime presentazioni. L'altra sezione è quella dell'analisi multispettrale che consente di ricostruire la lettura su supporti pergaminacei in maniera non invasiva di ricostruire la lettura di supporti pergaminacei danneggiati. Ovviamente la tecnica utilizzata che è quella dei raggi ultravioletti non è una tecnica nuova, sono diversi decenni che si usa la lampada di Wood, quello su cui noi lavoriamo è l'ottimizzazione del processo di presa dell'immagine con la lampada di Wood e poi ricreare in maniera, con degli algoritmi matematici, il documento che vedete è l'ultimo sulla destra, il documento che è restaurato digitalmente ma che riporta la scrittura nel modo in cui era originalmente. Ovviamente tutto questo lavoro comporta un ricco sistema di metadattazione, altrimenti i documenti non vengono poi reperiti e questo è una cosa scontata. Quello che noi cerchiamo di fare è da un lato di essere molto rigorosi nella metadattazione, dall'altro in caso di documentazione che non ha, che non trova degli input form di metadattazione che si adattino esattamente alla documentazione che stiamo trattando, noi li architettiamo. Li architettiamo molto spesso in collaborazione con i docenti, molto spesso docenti del DISTUM, faccio soltanto l'esempio, l'input form degli audio che abbiamo fatto insieme alla professoressa Claudia Celata, proprio sulle basi del Vade Meco Ministeriale per il Trattamento delle Fonti Orali e che si sta applicando anche in altre teche digitali simili a questa di Sanzio, che però abbiamo impostato noi come lavoro collaterale di ricerca affinché il nostro lavoro sia scientificamente il più accurato possibile per riconsentire la consultazione in maniera corretta dei documenti che inseriamo. Ad oggi abbiamo inserito oltre 80.000 oggetti digitali, il lavoro continua perché le proposte, i progetti sono tantissimi, come vedete ci occupiamo sostanzialmente di materiale documentario e che abbiamo in università ma appunto non soltanto e vedete che la possibilità, il fatto che la metadattazione consenta di essere ritrovata dai principali sistemi di ricerca online ha fatto sì che da Urbino in realtà il nostro patrimonio culturale venga visto non solo in Italia, non solo in Europa ma abbia anche molte visualizzazioni anche in tutto il mondo e ovviamente questi colori di questa piantina cambiano tantissimo a seconda delle cose che inseriamo perché ci sono delle realtà geografiche che amano più o meno certe tipologie di documenti. La Svezia per esempio ama tantissimo la semiotica, quindi più audio mettiamo di semiotica più il colore della Svezia aumenta e così via. C'era un periodo che la Cina era intensissima perché mettevamo su delle pergamene del nostro fondo antico, questa è proprio una cartina del tonno al sole molto interessante. Concludo dicendo che appunto come dicevi i progetti si vanno avanti, molti sono in collaborazione e questa è una cosa che ci fa veramente piacere con docenti e con progetti di ricerca abbiamo in attivo delle collaborazioni con il PRIN STOA coordinatore della professoressa Chiara Celata sul trattamento delle fonti orali per la dialettologia abbiamo in collaborazione il PRIN Daimon con la professoressa Marcelli per la tradizione letteraria lavoriamo con il centro di ricerche in arts per le fonti documentali degli artisti urbinati lavoriamo anche se non è un progetto di ricerca ma un progetto di valorizzazione che per noi è molto importante con il sistema museale di Ateneo con la professoressa Santucci e appunto a breve faremo una presentazione su questo, sia il sistema museale, ci tengo a dire questo, che sia il sistema museale sia in arts si appoggiano anche utilizzano anche i servizi che come settore biblioteca forniamo con la nostra University Press perché è quasi un circolo virtuoso che si parla all'interno dell'università con vari strumenti, tutti portati al fatto di cercare di valorizzare e divulgare quelle che sono i nostri tesori più preziosi, sia dal punto di vista dei documenti culturali ma anche dal punto di vista della ricerca e quindi mi auguro che adesso anche con il laboratorio questo circolo virtuoso si ampi molto di più e possiamo proprio potenzare dicevamo prima con la professoressa Martini a dei progetti condivisi che possano essere veramente di arricchimento per il nostro Ateneo. Grazie.